ciao a tutti ragazzi da Michele benvenuti nel mio canale ecco qua ferrari transporter il camion della formula 1 campione del mondo 2007 è ovviamente non il camion ma la ferrari edizione centauria andiamo adesso velocemente a guardare quelle che sono le principali informazioni di questa collezione e di questi di questa prima uscita che la compongono ok ragazzi allora sistemo il treppiede ragazzi ormai mi conoscete perfetto allora ragazzi prima informazione che mi sento di darvi è sicuramente la scala ridotta non è una non è in scala 1 a 8 ma in scala 1 a 18 e già questo per me è bastato per decidere poi di non andare avanti sicuramente la ferrari e la ferrari ragazzi sicuramente io non ne avrò mai una ok però al di là di questo al di là delle battute che poi tanto battuta non è è in scala appunto ridotta e non è una scala che a me interessa fare per quanto riguarda modellini da montare mentre invece per altri per altro genere di modellismo come poi vedrete anche nella mia playlist metterò anche macchinine della cmc in scala 1 a 18 ma sono già montate quello è un altro discorso allora ragazzi seconda cosa che mi ha lasciato un po' diciamo perplesso è la fattura è la fattura dei due modellini che in foto insomma si si evince subito non è niente di che e sinceramente considerate che ci sono 140 uscite per fare questo modello non 100 ma 140 uscite dove la prima costa 1 euro 99 la seconda uscita 5 99 e dalla terza uscita in poi saranno 11 euro e 99 per ogni uscita salvo che voi non vogliate fare l'abbonamento premium dove dovrete aggiungere un euro in più nell'abbonamento premium ragazzi vi danno allora vi danno una mattita triangolare con il terzo invio vi daranno poi con il quarto invio la tazza con il tredicesimo invio vi daranno il modellino della ferrari f 2007 di kimmy raikkonen in scala 1 a 24 con il diciottesimo invio vi daranno in scala una 43 motrice rimorchio completo e poi mi sembra che non ci sia altro ok ragazzi passiamo scusate sto dando un'occhiata allora vediamo un po vedete scala 1 a 18 modellini scala 1 a 8 hanno un altro impatto ragazzi molto più belli molto secondo me anche più rifiniti queste sono le due ferrari che vi arriveranno io le ho guardate un po anche se sono in foto ragazzi io faccio un modellismo diversi anni e vi dico che insomma non sono niente di che sono ai livelli proprio delle diciamo di quelle abbastanza comuni olala è uno delle tante botte che darò a treppiede ragazzi allora vi farò solo vedere le cose più essenziali ragazzi eh le cose più essenziali allora ci dice che la strailis 480 è totalmente ispezionabile dal motore i rivestimenti e i comandi nella cabina io sto leggendo eh ragazzi allora abbiamo le due ferrari di massa e raikkonen campione del mondo 2007 da assemblare da assemblare con due uscite ragazzi quindi insomma sinceramente non è che ci sarà molto da assemblare ecco perché vi dico che guardando la foto non sarà niente di che è una spesa di oltre 1400 euro sinceramente io non me la sento di affrontarla io ragazzi ok io voi se decidete di farlo sicuramente avrete fatto la scelta giusta per quello che ritenete voi ragazzi e quindi fate bene i soldi sono vostri ci mancherebbe la lunghezza sarà di 920 mm quindi 92 centimetri altezza 22,5 centimetri e la larghezza 17,2 centimetri ok ragazzi vi farà vi sarà anche fornito in corso d'opera un telecomando dove appunto potrete azionare luce led all'interno del rimorchio luce abitacolo luci motore anteriore e posteriore luci posteriori rimorchio luci fredde fredde certo si esistono anche le luci fredde ma qui c'è scritto luci frecce ok sound motore e clacson ok allora andiamo a chiudere questo velocemente e vediamo proprio quello che c'è all'interno qui ci sono un po di immagini ragazzi va bene ve le faccio vedere guardate sicuramente interessanti come la storia della ferrari che da oltre 70 anni è presente in formula 1 vi do una rapida visione di quello che è di quello che è il fascicolo e poi andiamo avanti e vediamo cosa c'è nel primo numero galleria del vento progettata da renzo piano famoso architetto italiano riconosciuto in tutto il mondo le sue capacità e il suo genio ecco qua a posto ragazzi allora via 1 andiamo subito a prendere vediamo un po andiamo subito a prendere quello contenuto scusate vi faccio anche vedere il retro in retro del primo numero questo è il retro del primo numero scorro piano così potete anche leggere tutto quello che c'è scritto vedete la seconda uscita 599 che completa diciamo un po' il musetto nella parte da sotto il parabrezza in giù ovviamente eccoci qua allora ragazzi un piccolo cacciavite sempre utile qui abbiamo le due parti frontale e il retro della mascherina la griglia che poi andrà chiaramente a proteggere il radiatore qui abbiamo un pezzo del portellone posteriore qui il pezzo che va dietro il portellone posteriore la serie di viti per metallo dove metallo e m ricordatevi e pi e plastica e sono contrassegnati in azzurro quelle per la plastica e in nero quelle per il metallo contrassegnati intendo come colore e poi abbiamo qui abbiamo delle cerniere e il logo iveco iveco allora procediamo vediamo un po' ragazzi quanto ci mettiamo o meglio quanto ci metto io a montare qui abbiamo l'autorizzazione della ferrari per poter appunto essere prodotto di vicenza ufficiale ovviamente ferrari ma questo insomma ragazzi è ovvio se no non ci sarebbe stato il logo questo iveco ferrari sotto allora aspettate che faccio solo un po' di pulizia perché sennò poi mi trovo tutti i pezzi di carta in mezzo al video e non va bene allora ragazzi a questo punto andiamo aprirla eccolo qua il logo ferrari allora per aprirla è meglio girarla al contrario prendiamolo solo di qua oh si eccolo qua la giriamo così vediamo un po' se riusciamo a fare danno ok eccoci qua perfetto allora andiamo a prendere il primo pezzo allora ragazzi è in plastica e il posteriore va bene andiamo a vedere questo è in plastica ragazzi ma non vi lamentate perché hanno fatto un'ottima scelta a mio parere perché questo andrà poi a basculare aprire e chiudere sicuramente magari in qualche parte in metallo o anche se fosse plastica intorno evita questo che le vernici si rovinino ragazzi il ferro il metallo ci sarà di sicuro di sicuro allora questi sono i primi due mettiamoli qui ecco infatti guardate ragazzi questo è metallo molto pesante la verniciatura qui va bene bisogna essere fortunati lo sapete ragazzi però c'è sempre il servizio poi per rendere il pezzo fallato per chi ha l'abbonamento e sostituirlo con uno nuovo senza nessuna spesa aggiunta questa questa è plastica ragazzi che imita l'alluminio ed è imitato veramente bene ve lo garantisco sembra veramente un pezzo d'alluminio andiamo a prendere la mascherina che è di plastica no ragazzi è metallo metallo chiedo scusa quella che proteggerà il radiatore abbiamo la scritta iveco se la giro così forse è meglio eccola molto bella ragazzi sicuramente è bello il camion il problema per quanto mi riguarda sempre per quanto mi riguarda questa è una delle tre cerniere che sosterrà poi il portellone posteriore in metallo sono e la scala 1 a 18 e in più ripeto per un modellino così come si evidenzia fatto bene insomma così come ci scrivono e deve avere anche le ferrari fatte bene ragazzi anche se insomma potevano fare un'apertura del motore farle vedere all'interno per quel prezzo lì ragazzi si poteva fare a mio parere questa è l'interno della cerniera sicuramente del portellone e poi abbiamo le serie di viti vedete am queste di plastica queste bm vedete tutte le scritte per il metallo le viti per il metallo sono in nero mentre invece quelle per la plastica che hanno anche il filetto più largo sono azzurre in questo caso è ap ok andiamo a levare tutto e speriamo di non metterci un'ora per montare questi quindi andiamo a vedere la prima cosa da fare ragazzi vediamo subito allora prima cosa da fare ci dicono di prendere la mascherina anzi facciamo così ragazzi scusate facciamo così guardate prima cosa da fare andiamo a personalizzare la mascherina anteriore con la scritta da iveco quindi prendiamo questo uno sì questo è il posteriore perfetto e andiamo a metterlo a posizionarlo qui semplicemente eh sì fate attenzione quando lo inserite non mettetelo tutto da una parte se no non si inserisce fatelo entrare sempre in piano ragazzi qualsiasi pezzo che va inserito con degli inserti così sempre in piano cioè vedete lo fate entrare lo fate entrare lo fate entrare giù insieme guardate capito molto semplice ok dopo aver fatto questo andiamo a prendere ci dicono vedete andiamo a prendere la mascherina e andiamo a posizionare andiamo a posizionarla nel retro e scusate ragazzi perché io sto sto guardando dentro il cellulare ragazzi quindi adesso vedete avevo fatto questo lavoro qui uno dice ma non vedi la forma si la vedo se guardo la plastica ma se guardo nel telefonino e non devo uscire dall'inquadratura questo mi accade ok? una volta fatto questo ci dicono di prendere la parte posteriore ovviamente e andarla a posizionare così guardate ragazzi cosa vi ho appena detto certo se guardo solo il modellino lo avrei compreso subito facciamo così eh se esco un po' se esco un po' dall'inquadratura non me ne vogliate perché esco con la testa fuori dal cellulare per riuscire a vedere quello che devo fare ok poi ci dice andiamo a prendere allora le sei viti ap andiamo a prendere le viti ap che ce ne saranno magari sette tre sei qua ce n'è otto ci dice di prendere le sei viti ap ragazzi qui non passate olio non passate assolutamente niente ve lo sconsiglio oh calamitato che bello ok e andiamo appunto a metterle una due tre quattro cinque due quattro sei una due tre quattro cinque e sei perfetto andiamo entrano molto bene le viti ragazzi quindi state tranquilli non dovete fare alcuno sforzo uno e mettete un altro di qua subito dall'altra parte ve lo consiglio stiamo avvitando le viti ap dove pi ricordatevi è plastica la mascherina è finita almeno quella che poi andrà a basculare per poter accedere all'interno del motore almeno in parte il radiatore ecco qua ragazzi non vi lamentate ripeto che è plastica perché è meglio così in questo caso perché non si rovineranno i contorni quando andrete a chiudere o a farla collimare se non sarà proprio perfetta andiamo via con questa andiamo a montare adesso quest'altro pezzo ci dice appunto di prendere allora colloca correttamente la cerniera e il cardine perfetto andiamo a prendere uno due e tre stavo guardando se c'è una posizione non c'è quindi va bene sia così che così perfetto questo eviterà parecchi errori anche se ci sono le istruzioni scusate che vado a posare le viti fatelo anche voi ap che non ci servono in questo momento nel suo apposito sacchettino ragazzi vi ricordate come aprire i sacchettini guardate pollice indice ecco fatto e si apre ok allora torniamo a noi ci dice di prendere le viti bm eccole qua le viti bm ragazzi le rovesciamo qui ecco andiamo a vedere come si comporta il filetto all'interno ragazzi nel senso se va la pena di passarlo con il grasso oppure basta già così fatemi vedere il disegno no questo va messo così ragazzi così adesso poi vi faccio vedere ne puntiamo una senza evitarla tutta e ne mettiamo un'altra adesso prendiamo a stringerle comunque va messo così ragazzi guardate ok andiamo a fare la stessa cosa con le altre qui non serve neanche passare l'olio ragazzi perché si avvita molto bene poi quando c'è da ve lo consiglio sempre l'olio se avete metallo su metallo o se avete la vite che si avvita nel metallo avete un inserto di plastica da tenere stretto ve l'ho spiegato il perché negli altri video che ho fatto nella mia playlist adesso in questo caso su iron man andate a vederli se avete piacere e andiamo a mettere la terza cerniera in metallo ragazzi non sono uscito fuori dall'inquadratura scusatemi ok uno e due adesso stringiamo tutto mettiamo così guardate e fate solo attenzione a questo quando stringerete guardate il gioco che ha la cerniera vedete questo dovete poi voi regolarlo quando andrete ad avvitarlo al camion ok perché se io adesso lo avvito tutto piegato di qua aspettate vi faccio vedere bene vedete la cerniera come balla se io lo avvito così tutto in su poi magari non sta se lo avvito tutto in giù magari poi non combacia bene anche se sono molto larghe però ve ne accorgerete poi quando andrete a far collimare questo sulle lamiere ragazzi sulla plastica adesso non so che materiale sarà quello dove questo andrà poi a chiudere ok ragazzi quindi ricordatevi che qui potete poi successivamente regolare perché tutto sia perfettamente allineato che combaci bene ok ragazzi per questo ve l'ho fatto notare andiamo a stringere queste senza curarci ripeto di quello che ho appena detto prima perché sarà poi per chi deciderà di fare questa collezione io non la farò si potrà regolare poi queste queste sei viti qua a questo punto andiamo a mettere via le viti bm una e due nell'apposito suo sacchetto poi ci dice di prendere questo e andarla a posizionare qui così vediamo se si si ragazzi allora aspettate che guardo bene perché qui entra sia così che nell'altro modo però allora guardate quello che è lavorato va messo da questa parte qua quello non lavorato tutto liscio va messo così ok ragazzi perfetto fatto questo giriamo e vediamo cosa ci dice di fare allora questo scusate ragazzi perché voglio solo vedere ok stavo guardando per capirci stavo guardando questo diciamo la finta serratura dove poi andava messa ma va messa poi dall'altra parte quindi va bene così allora a questo punto prendiamo il pannello semplicemente e andiamo a posizionarlo ok aspettate che si inquadro tutto così è ovvio non si può sbagliare assolutamente perfetto e andiamo a mettere le viti am ecco qui hanno fatto una cosa molto 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 diciamo come si può dire hanno avuto molta attenzione perché hanno messo le viti cromate che vanno appunto a perdersi o meglio a dare un tocco in più all'alluminio adesso vi faccio vedere poi tutto perché nero sarebbe nere sarebbero state davvero tutt'altro che belle ragazzi quando arrivate in battuta non continuate a stringere perché rischiate di rompere tutto tutto la plastica ricordatevi che questo pannello di finto alluminio è in plastica bello eh ragazzi bello davvero state tranquilli che il peso sicuramente lo avrà ai ragazzi quindi se qualcuno poi deciderà di farlo come spero per voi perché insomma chiama la ferrari e decide comunque di fare un modello del genere mi faccia poi sapere che sarei curioso di sapere l'evoluzione anche di questo modello davvero non reale perché un conto è leggere un conto è averlo tra le mani tutto ragazzi è il modello ok perfetto e poi ci dice andiamo a mettere a posto anche questa il suo sacchetto così non si perde la vite am guardate che bello vedete molto bello le cerniere bascolano bene perfetto e poi andiamo infine a mettere quest'altro pezzo e poi è finita ragazzi questo qui è uguale lo possiamo mettere vedete sia da una parte che dall'altra anche così è uguale ok e andiamo a posizionarlo semplicemente qua nel foro che fa la finta serratura insomma lo scopo è quello ce la facciamo aspettate ragazzi inquadro e mi metto dall'altra parte se no non ce la faccio dal telefonino a inserirlo eccolo qua abbiamo fatto vedete ragazzi questo ho posizionato così parlo del pezzo interno di cui vi parlavo prima si deve vedere ovviamente è finta si deve vedere la lavorazione ah no guardate ragazzi scorre scusatemi allora guardate va bene ragazzi io terminerei qui il filmato il video dicendovi appunto come vi ho detto già prima che io non decido di non farla perché è in scala 1 a 18 e per il discorso delle macchine che non vi ripeto più ok il secondo numero prossima uscita sarà questo come vi ho fatto già come vi ho anticipato già prima nel video del fascicolo ok ragazzi se volete iscrivervi per quanto riguarda questo camion ragazzi io sono contento se vi iscrivete ma sono una persona molto trasparente non lo farò per quello che vi ho detto prima e adesso sicuramente sicuramente farò tante altre cose aprite la mia playlist e quindi se volete iscrivervi e aiutarmi a crescere nel mio progetto io non potrò che ringraziarvi ragazzi se poi attivate la campanella ancora meglio perché vedrete tutto quello che farò piano piano ragazzi ho tante idee in testa e con il vostro aiuto sicuramente ci riuscirò a porterla avanti ciao a tutti ragazzi ciao da michele e vi auguro una serena giornata a voi e a tutti i vostri cari più cari ciao ragazzi alla prossima